Luca De Francesco, vicino a uscite con il tempo di 30 minuti e 34 secondi con la parola di oggi. Luca De Francesco, vicino a uscite con la parola di oggi. Luca De Francesco, vicino a uscite con la parola di oggi. Luca De Francesco, vicino a uscite con la parola di oggi. Luca De Francesco, vicino a uscite con la parola di oggi. Luca De Francesco, vicino a uscite con la parola di oggi. Ehi! 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 Sì! Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.